buonasera a tutti anzi buon pomeriggio oggi è pomeriggio finalmente riesco a fare un video di pomeriggio anche se ho poco tempo per le tre e mezza dove per finito perché devo lavorare quindi vi propongo dei modulino molto carina e molto semplice che ho fatto in varie versioni ed è l'orecchino e mi chiede questo è un incastonatura che ho voluto fare con queste perline perché non le usavo e sono le pince credo si dica così vedete quanto è carino un po in 3d ho fatto questo questa colorazione però devo dire che sono fatti in maniera diversa adesso vi spiego come questi sono fatti tutti con le 15 vedete qui tutti con le 15 inizialmente con le con le 11 però poi dopo tutte con le 15 poi ho voluto provare a farle a farli con tutte con le 11 e devo dire che anche così non sono male vedete l'orecchino rigido non si non è molliccio e quindi io penso che vada bene anche con le 11 poi voi fatelo come più vi piace se se lo rifate insomma se vi piace il progettino e poi oggi andremo a fare questo questa colorazione qui sempre con le 11 carino no vedete molto molto carino quindi andremo a fare l'incastonatura con queste pince molto semplice perché è un net di fondo è semplicissimo quindi mando alle ciance mi propongo tutto il materiale questo quindi a 15 e 15 e queste sono le 11 e ora faremo con le 11 poi fate come volete e praticamente poi cambiano non cambia quasi niente perché ho messo sia le 11 qui 5 poi 22 e poi qui va bene una 15 una 11 una 15 e poi nell'ultimo giro sono 3 15 e anche qui ho fatto la stessa cosa vedete fatto la stessa identica cosa quindi il numero di rocai è quello soltanto che cambia la forma ok adesso facciamo questo modulino e vi dico il materiale allora ma alzo un pochino almeno si vede un po allora ci vogliono delle perle da 4 poi delle hobbits delle mobi duo appunto delle pince sto usando queste chiare nell'altro modulino ho usato queste queste bianche poi dei cipollottini due per uno dei biconi da 4 un rivoli da 14 e un gancio poi delle 15 e delle 11 ok allora poi il filo il solito il far line da 0 15 è un ago da 10 io sto usando il tulip in questo momento perché gli altri mi si piegano un po e quindi ne uso molti di più alla fine però qui lo posso usare questo qui perché alla corona leggermente più grandicella diciamo degli altri aghi quindi fa fatica a passare nelle nelle rocai però in questo modulino e non c'è difficoltà quindi proseguiamo così con questo da 10 allora dobbiamo inserire sull'ago delle pince che sono esattamente 6 alternate da dalle 11 quindi mettiamo lo faccio con voi perché almeno è semplice molto molto semplice allora alterniamo le pince con le 11 0 che mi è scappata e mi scappa ancora mettiamo di qua che sono più comoda ecco qui adesso non vedrete nulla però poi ve lo faccio vedere alla fine dell'inserimento delle dei materiali quindi 6 pince e 6 11 0 questo rumore che sentite è il mio bracciale che fa rumore ok adesso non dobbiamo fare altro che chiudere a cerchio adesso vi faccio vedere togliamo questo che magari vedete 6 pince 6 11 0 lo chiudiamo a cerchio ripassando tra le perline facciamo un nodino e ci rivediamo subito dopo eccoci qui allora ho chiuso a cerchio ho fatto un nodino per fermare il filo e ho tagliato il un eccesso ora esco da una 11 0 e metto sul lago 7 11 0 e mi inserisco nella 11 0 successiva questa e tiriamo il filo ok e dobbiamo fare la stessa cosa poi per tutto il giro quindi 7 11 0 e mi inserisco nella 11 successiva se la becco perché io guardo il lavoro e non guardo la telecamera quindi è facile che esco anche dalla telecamera quindi ecco qui quindi doveva fare così per tutto il giro ecco qui allora ora finito il giro mi porta ad uscire dalla quarta dell'archetto quella di punta e metto sul lago 3 11 0 e mi inserisco nella quarta dell'archetto successivo quella centrale così semplicemente dobbiamo fare tutto il giro in questo modo semplicemente è un incastro una trova molto semplice 3 e vado ancora nella punta successiva quindi facciamo questo per tutto il giro eccoci qui allora adesso prendiamo i rivoli questo meraviglioso rivoli e lo mettiamo a testa in giù così stringiamo bene e doppiamo uscire dalla seconda delle tre che abbiamo fatto aspettate metto un pochino di zoom ok vedete qui prendiamo 2 15 11 0 e ci inseriamo in quella centrale dell'archetto che abbiamo fatto il giro precedente sempre questo vedete ora mentre lo facciamo dobbiamo sempre comunque stringere e dobbiamo fare questo per tutto il giro ecco qui ragazzi allora facciamo così dobbiamo passare un paio di giri nelle due che abbiamo inserito tralasciando quelle delle tre dell'archetto precedente quindi prendiamo solo le due che abbiamo inserito e facciamo un paio di giri di rinforzo eccoci qui guardate come si è incastonato bene ha preso la sua forma vedete ora dobbiamo salire appena fermato tutto bene il filo ha fatto il giro di rinforzo nella vedete mi sono salita qui e sulla quella dell'incastonatura quella delle 5 poi vado in questa vedete che c'è la prima qua dell'inizio e poi l'archetto delle cinque quindi noi dobbiamo entrare in questa vedete 12 123 entriamo così ora mettiamo sul lago aspettare che non le ho prese ok una hobbits una perla da quattro e un'altra hobbits spero spero di averlo detto bene l'ho sentito tante volte ma poi sono per linee che poco uso e quindi me ne dimentico così e guardate io esco da qui e rientro nella quella di fronte dall'alto verso il basso in questo modo e tiro il filo così poi prendo un cipollottino due per uno e uscendo da sotto vedete da sotto vado nella stessa ovviamente quella speculare e vado da sotto a sopra così o nella telecamera non c'è niente da fare scusate ma io non trovo una soluzione corretta allora prendiamo un altro pizza un'altra perla ma noi facciamo di nuovo insieme è un altro pizza e uscendo da qui inserisco qui da su a giù da sopra a sotto e tiro il filo giusto un pochino se non si è messo da bene e qui facciamo noi quindi un'altra cipollottino due per uno e da dove esco vedete esco da sotto vado a quella speculare e da sotto a sopra così e tiro il filo questo lavoro lavoro lo facciamo per tutto il giro allora il lavoro si presenta così ovviamente questi filetti che vediamo uscire dalle perle andranno coperti ora usciamo dalla 11 sotto dopo aver messo l'ultimo cipollottino entriamo nella obbizze nella perla e nella obbizze scusate nella perle dell'obbizze senza mettere nulla sul lago ora prendiamo due mobbiduo in questo verso ora vi faccio vedere così e ci inseriamo nella obbizze subito dopo vediamo che se siano posizionate bene le mobbiduo e procediamo quindi mettiamo sull'ago 5 11 0 5 e ci usciamo dalla obbizze e rientriamo nell'altra obbizze subito dopo e tiriamo in questo modo poi ragazzi si sistema tutto ok di nuovo due mobbiduo ci inseriamo nella obbizze ecco qui ora facciamo di nuovo 5 11 0 e due mobbiduo eccetera eccetera così per tutto il giro allora finito il giro mi trovo ad uscire dalla obbizze qui cosa faccio salgo nella mobbiduo sul foro superiore qui prendo un bicono da 4 e mi inserisco nell'altra mobbiduo ok e tiriamo in modo che il bicono si inserisca bene nelle mobbiduo ora vado a vedere un attimino perché non mi ricordo mamma mia che danno prendiamo due 11 0 uscendo dalla mobbiduo mi inserisco nella 11 0 centrale delle cinque che avevo appena inserito e tiro il filo ne prendo altre due e dai vieni e mi inserisco nella mobbiduo sempre nel foro superiore credo che siano due riguardo attentamente sì sono 2 11 0 prendiamo un altro bicono e ci inseriamo nel mobbiduo successiva quindi dobbiamo fare così semplicemente tiriamo bene il filo perché a me si vede adesso il filo e lo facciamo così per tutto il giro eccoci qui a giro finito ora io esco dalla mobbiduo vedete e inserisco sul lago aspettate che c'è un nodino eccolo qui inserisco sul lago 6 15 0 e 6 e mi inserisco allora se il cipollottino è andato all'indietro portatelo avanti quindi mettiamo 6 15 sul lago poi entriamo nel cipollottino sotto la mobile mobbiduo così in questo modo di nuovo ora 6 15 0 6 e mi inserisco nella bomba mobbiduo all'interno però è esco all'interno e rientro all'interno e anche nelle due 15 successive e 21 scusate questo è quello che dobbiamo fare ora mettiamo una 15 una 11 e una 15 e mi inserisco esco dalle due mi inserisco nelle altre due e nella mobbiduo così il lavoro deve risulta perché si vede il filo qua sotto non riesco a comprendere l'ho tirato forse va bene quindi di nuovo 6 15 0 6 e come ho detto prima portiamo il cipollottino un pochino avanti ma andiamo le mobbi dietro e entriamo nel cipollottino così di nuovo 6 15 0 6 e mi inserisco nella mobbiduo e nelle due 11 successive praticamente il giro è solo questo tiriamo bene mettiamo una 15 una 11 una 11 e una 15 e mi inserisco nelle altre due 11 e nella mobbiduo quindi è molto semplice il giro è sempre lo stesso eccolo qui quindi facciamolo tutto il giro eccoci qui a giro finito allora ragazze e forse non ho detto il nome come li ho chiamati questi due orecchini sono gli orecchini emi ora ho dimenticato anche un'altra cosa ho detto che sono tutte 11 no in verità l'ultimo giro guardandolo bene adesso sono delle le 15 soltanto per questa posizione qui quando metto le 3 qui e le 3 qui sono 15 solo questo ultimo giro qui nel cappietto invece sono 11 0 che adesso andremo a fare quindi io esco dalla mobbiduo vedete e non esco dalla mobbiduo esco adesso mamma mia e poi rientro anche nel nella nel bicono e metto sul lago 6 11 0 e 6 e rientro nel bicono stesso adesso facciamo il solito giro di rinforzo ok rientro nel bicono rientro nella mobbiduo e attenzione qui nella prima 11 0 questa telecamera troppo bassa nella 11 0 questa si ok vedete così e poi mettiamo sul lago 3 11 0 è 15 0 scusate si danno i numeri anche a quest'ora 3 11 0 e di nuovo 3 15 0 e rientro nella 11 centrale nel giro precedente e tiro il filo ora di nuovo 3 15 0 e rientro nell'ultima 11 nel nella mobbiduo e anche nel bicono praticamente dobbiamo fare questo per tutto il giro soltanto questi archetti così quindi ripetiamo questa sequenza mettendo soltanto 3 15 sugli per fare degli archetti a dopo ecco qui l'orecchino è finito ora metto il gancetto e ci vediamo subito dopo eccoci qui molto veloce avete visto questi sono gli orecchini EMI che troverete subito sul tutorial se vi piacciono riproduceteli si dice si dice non lo so insomma fateli se vi piacciono è un momento di di defaianza e quindi se vi va mettete un dito in su e cliccate sulla campanellina così ci saranno le notifiche per i prossimi progettini e poi se volete anche registrarvi a me fa solo piacere faremo crescere un pochino questa pagina che è molto lenta 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 a me farebbe tanto tanto piacere questa cosa quindi appena adesso vi do un forte abbraccio a tutte e alla prossima ciao ciao